Ciao Antone, ecco questo pure mi piace tutto. Questo è amore per l'arte, uno mi esprimò con i colori, con le linee, con i gesti, questo è nato in un'estemporanea, un'estemporanea? Sì, l'ho fatto in un'estemporanea, ma era a tema? No, non era a tema, non era a tema, e ho cercato di esprimermi con i colori, però come ha fatto un uomo della tua vita. Bene, fermi così, no fermi col quadro così, metti un po' più, ecco sì, così, in mezzo a voi, vai.